E-Life International, una società di ingegneria microelettronica specializzata nella progettazione e produzione made in Italy di apparati e sistemi elettronici ad elevato contenuto tecnologico. E-Life International, a Porto Ferraio. La Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno ha compiuto 20 anni e questa è stata l'occasione per fare il punto sui progetti finanziati per la valorizzazione delle residenze napoleoniche dell'Elba. Ieri alla Gran Guardia, nel corso di una conferenza stampa, si è parlato delle diverse proposte avanzate dalla soprintendenza per i beni culturali e della direzione del museo e realizzate con il contributo della Fondazione, che ha permesso di ricostruire l'aspetto originale delle residenze durante il soggiorno di Napoleone. Ma non solo, i restauri ancora in fase di realizzazione, il recupero di superlettili vari, le mostre, le conferenze e i volumi pubblicati. Dunque il punto della situazione, in vista del 2014, anno in cui si festeggerà il bicentenario dell'arrivo di Napoleone all'Isola d'Elba. È dal 2004 che noi abbiamo iniziato un percorso per la valorizzazione delle residenze napoleoniche all'Isola d'Elba, quindi noi intendiamo anche in vista del 2014 proseguire su questo cammino. Noi continueremo sicuramente il nostro percorso, che è un percorso tra l'altro molto interessante perché coinvolge anche i progetti europei. Il percorso continua e stiamo preparando però il grande evento del 2014. Virtualmente è tutto pronto e dobbiamo però trovare il modo di finanziare almeno alcuni eventi. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la fondazione di questa fattiva collaborazione. Il programma è quello di procedere anche al recupero degli interni, soprattutto della Villa e Mulini, perché ormai abbiamo la certezza filologica di quale fosse l'arredo originale e le finiture artistiche. Gli interventi della regione toscana sono stati numerosi e importanti dal punto di vista finanziario. Oggi lo stesso sindaco ricordava e dava atto alla regione dell'impegno finanziario importante su Portoferraio, che ha consentito negli ultimi anni un recupero straordinario del patrimonio. Io credo che il centenario napoleonico del 2014 sarà l'occasione per valorizzare adeguatamente questo patrimonio restituito. Noi come Comune siamo partner importanti all'interno di questo progetto che vede protagonisti anche la regione, la sovrintendenza e il ministero. Verrà costituito un comitato ufficiale che gestirà eventi, manifestazioni e tutta la programmazione che sarà poi legata ai festeggiamenti del 2014, proprio per dare un marchio di qualità a tutte le iniziative che saranno inserite all'interno della programmazione 2013-14 fino al 2015.